Nei giorni scorsi, all'interno della Biblioteca Comunale di Sant'Ippolito, si sono riuniti i 50 volontari del Proloco della provincia per stabilire le prossime tappe di promozione in vista degli appuntamenti natalizi del Natale che non ti aspetti. L'evento, coordinato dal Comitato UMPI di Pesaro Urbino e promosso in collaborazione con la Regione Marche e la provincia, vedrà coinvolte dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 ben 18 realtà. Ad aggiungersi a quelle già esistenti delle passate edizioni, quest'anno saranno le località di Orciano, Mondavio, Cagli e Pergola. È stata una bella riunione dove abbiamo presentato il nuovo logo, dove abbiamo presentato tutta la programmazione che si farà e quindi anche la programmazione di investimento sui social a livello nazionale, su tutti i giornali a livello nazionale. Abbiamo già delle belle risposte perché siamo usciti, grazie al grande lavoro che sta facendo anche Omnia Comunicazioni, siamo usciti su testate giornalistiche veramente molto importanti. Parliamo di Plenair, di Dove, di tanti siti a livello nazionale, tante radio che ci chiamano anche a livello nazionale, proprio i giorni scorsi anche Radio Capitale. È stato un grande lavoro questo e vedere tante proloco che si impegnano così tanto nel territorio e che muovono un'economia così importante, per me è stata una serata eccezionale. E da qui chiaramente mi sento anche di dire c'è un lavoro dietro tutto ciò, ci sono i volontari che stanno lavorando, sia il Comitato Provinciale che le proloco, siamo tutti volontari. Questo lo ribadisco all'ennesima potenza perché l'amore, la passione che può dare un volontario per il proprio borgo ha fatto sì di metterci tutti insieme, di togliere i campanili, ma di mettere un campanile unico sotto il cilindro che è questa nuova immagine del Natale. Il Natale che non ti aspetti scopriremo il cappello e vedremo cosa ci sarà dentro. Ci saranno 18 località. Quest'anno 18 sono aumentate, ci siamo messi insieme, stiamo facendo rete. Tante prenotazioni arrivano e questo vuol dire che è un indice importante turistico di questo territorio, ristoranti e alberghi saranno sicuramente tutti esauriti. Speriamo che nei prossimi anni possa entrare a far parte di questo progetto anche tutte le associazioni di categoria di questo bellissimo territorio.